Mi ricordo che quando dicevamo quella giudicazione del 2010-2012, mi dirò poi in Australia con un giovane ragazzo che si chiama Nardella, che ci viene la notizia di Firenze. Poi noi iniziamo a Firenze a immaginare il percorso di Libali, chi ha vissuto quel momento lì sa quanto è stato straordinario in ultimi due giri e dopo quello che era la caduta terribile, e Firenze alzò i percorso di Vittorio Costa, che conosce il civismo, sa che Libali è molto di più di un atleta, è un simbolo e qui sono felicissimo di aprire la palazza di Dici, però adesso se volete ringraziare a lui vorrei parlare con lui e farmi raccontare un po' di cose. Istituzionalmente siamo felici.